Nel campionato italiano a squadre vince il prestige poker e il rappresentante appunto del prestige poker Pablo Biagioli vince questo ticket che garantisce l'ingresso nell'Italia Poker Team che ricordiamolo capitanato dal nostro Spataro Spiegaci un pochino le tue sensazioni quando proprio ti sei grappato da short a queste zap L'inizio è stata molto dura nel senso che oltre a avere Fisch ero carded e poi comunque Carla è una fischia ostica e quindi non era semplice, ho provato prima mano a fare un mezzo blef, mi ha subito pushato resti addosso e ho dovuto strappare subito, mi sono subito accorciato e poi con tanta pazienza e un po' più di fortuna dalla mia perché comunque ho rannato decisamente meglio di Carla piano piano colpo su colpo siamo arrivati a prima paristà che poi insomma capovolgere piano piano la situazione ma è stata durissima, io sono distrutto Giacomo da capitano del team hai questo giocatore che tra l'altro è molto molto astuto perché ha saputo nelle zappe ha saputo mantenere la calma, diciamocelo la calma paga sempre in questo gioco Sì, in questo giochino ecco anche quando credi che sia finita, lo ha dimostrato Pablo stasera non è mai finita ecco fino all'ultimo quindi puoi sempre giocarti le tue carte e le tue Fisch e complimenti a Pablo e sono contento che abbia appunto scippato questo ticket così ci divertiremo là Fabio, correggimi se sbaglio, secondo me la mano che ha fatto capovolgere un po' la tendenza da chip leader che Carla in quel momento stava avendo è stata quando l'hai portata a chiamare con asso 8 off e tu avevi asso donna Sì, lì effettivamente complice un po' diverse mani insomma è comunque dove effettivamente ero spesso avanti quindi forse anche un po' di stanchezza, un po' di frustrazione ha messo aveva comunque stack quindi comunque e ha detto vabbè insomma può anche pushare con tante altre mani e niente in realtà insomma era quasi un mezzo culer comunque insomma era difficile foldare con il suo stack anche io avrei avuto un po' di problemi insomma ecco però si poteva anche strappare insomma ecco dipende un po' però comunque con tante fischi come aveva lei forse è un colpo per vedere di far festa subito insomma ci stava ecco io non critico mai insomma ecco le mani dell'altro che tanto ha poco senso insomma ecco e un ultimo voto da veloce Giacomo mi ha detto mi piacerebbe fare un ITM a Las Vegas cosa le rispondi? in realtà Giacomo ha dichiarato che vorrebbe vincere il main ha detto fra noi ah giusto sì, perché sognare in piccolo insomma ma uno ha detto assolutamente insomma ecco no beh io se mi avvicino anche da lontano a quello che ho fatto Bravin l'anno scorso sarebbe boi una botta ma insomma anche molto meno insomma io voglio provare insomma ecco una bandierinuccia piccolina piccolina sarei contento di metterla ecco quella sì ciao ciao ciao